Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il miglior consolidato degli ultimi anni e facciamo parlare le cifre. Abbiamo ridotto il disavanzo rispetto al 2016 di 184 milioni di euro, l'indebitamento per cittadino napoletano si riduce rispetto al 2016 di 50 euro cada persona. Quindi stiamo i fatti innanzitutto. Poi certo continuiamo ad essere un ente in difficoltà perché di fronte ad un governo che non perde occasione per tagliare risorse agli enti locali o fa i miracoli e come dire siamo laici non riusciamo oppure dobbiamo fare i conti con una difficoltà crescente. Per questo chiediamo una norma. I revisori hanno fatto una cosa non prevista dalle norme che noi rispettiamo. I revisori devono esprimersi con una relazione, i revisori ci hanno chiesto delle prescrizioni ovvero di dare una risposta a delle loro richieste visto che noi siamo persone serie rispondiamo oggi in consiglio comunale punto per punto perché non abbiamo nulla da nascondere e tanta trasparenza e correttezza da rivendicare. Le opposizioni però cavalcano l'onda, vi chiedono di fare un passo indietro. Guardi le opposizioni sono simpatiche nel senso che dopo aver detto l'ira di dio dei revisori accusati di essere il tappetino della maggioranza improvvisamente si agganciano senza neanche leggere con attenzione i materiali a questo insperato aiuto. Sarà il voto dell'aula ripristinare la correttezza delle informazioni. D'altronde non avendo altre opportunità ci si attacca a quello che passa il convento.